buongiorno ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale il mio look è totalmente invernale sono tutta grey total grey si dice così completamente grigia perché quando ci sono le giornate brutte io non riesco a mettere dei colori super vivaci ma guardate qui ho rallegrato la mia mise con degli orecchini che vi avevo fatto vedere sono bellissimi luccicanti mi danno quel tocco di forse arriva la prima rira allora presto che tardi oggi pomeriggio e domani saranno due giornate completamente dedicate alla prima comunione ma volevo fare questo video come avete visto dal titolo sui profumi dedicati alla festa della mamma facciamo ancora in tempo a recuperarli se vi piacciono sia online ma anche nella grande distribuzione e proprio in questi giorni mi sono accorta che siamo arrivati al mese di maggio il mese di maggio è un mese che io amo tantissimo è il mio mese preferito è il mese in cui sono nata e quindi secondo me è un mese bellissimo è il mese in cui è nata la mia bambina la Lucy che quest'anno compirà 20 anni la mia bambina ragazzi ed è il mese per eccellenza proprio così del dei fiori della primavera anche se adesso tarda a venire e nelle mail mi stanno arrivando tutte le comunicazioni che ci sono gli sconti sui siti perché la settimana prossima si festeggerà la festa della mamma e allora non dimentichiamoci suona il campanello sono emozionatissima scusate questo questa interruzione ma mi ha appena suonato il fiorista e guardate una piccola pianta di olivo ma mi viene quasi da piangere sapete chi me l'ha mandata qui ci sono alcuni bigliettini che non vi leggerò dei miei bambini della prima comunione che mi ringraziano per il cammino che abbiamo fatto insieme e penso che questo sia veramente il più bel bellissimo regalo che oggi mi poteva arrivare e mi ha cambiato la giornata quindi adesso continuiamo scusate ma davvero questa cosa che grande gioia che grande gioia guardate che meraviglia bellissimo adesso la mettiamo per terra e continuiamo con i nostri profumi ma che bella cosa allora vi stavo dicendo maggio per me è un mese bellissimo e c'è ovviamente la festa della mamma che io ho sempre festeggiato l'otto maggio non chiedetemi perché una volta quando io ero piccolina le suore mi facevano fare all'asilo i lavoretti il giorno della festa della mamma e quindi per me è sempre stato l'otto maggio adesso si festeggia la prima domenica dopo l'otto maggio quindi sempre intorno al 10 12 13 quindi domenica prossima si festeggerà la nostra mamma tutte le mamme del mondo tutte le mamme del mondo è ma poi per gli auguri ci risentiremo scusate sono proprio un po confusa perché questa cosa mi ha un po toccato e nulla e quindi ho pensato così di abbinare alcuni profumi che sto utilizzando a alcune tipologie di mamme non ci sono solo queste ma poi c'è un profumo che va bene per tutte le mamme del mondo bando alle ciance iniziamo dal primo profumo guardate che spettacolo potevo non iniziare il video con un profumo che ha il flacone come un bocciolo di rosa questo profumo è volare moments di oriflame non so come si dice ma su questo soprassiediamo io l'ho comprato su notino sono 50 ml il prezzo è 17 70 18 per alcune volte lo trovate in sconto comunque è un profumino graziosissimo già nel suo flacone questo liquido un color rosa un po ambrato vi dico che le note di questo profumo sono rosa di grass le note di testa sono rosa di grass foglia di violetta e pera le note di cuore sono peonia o smanto magnolia e fresia le note di base sono iris muschio sandalo e legno di idro lo andiamo a spruzzare e mi sto allenando a usare le mugliette perché è anche giusto iniziare a sperimentare allora bando alle ciance è un profumo secondo me molto semplice con questo buco e fiorito che è dato dalla rosa la rosa e la violetta sono diciamo le due note che io sento di più ma quasi fino alla fine è un buonissimo profumo un profumo classico un profumo che ci riporta o almeno mi ha riportato alle serate di maggio quando si usciva per andare a recitare il rosario insomma ho avuto queste esperienze e proprio nel mese di maggio che era il mese dedicato alla rosa il mese dove tutti i fiori sbocciano e danno il meglio di sé ricordo che per andare nelle varie case dove si recitava il rosario ogni sera in una località diversa c'erano proprio questi giardini con le rose rosse fiorite questo profumo intenso con l'aria tiepida di primavera che ci regalava così quella sensazione di benessere dispensieratezza forse perché eravamo piccoli eravamo giovani noi andavamo come ragazzi ma il rosario era una cosa secondaria ci si andava perché si usciva alla sera perché ci si incontrava ci si fermava poi dopo il rosario a chiacchierare o andare a mangiare un gelato perché le serate lo permettevano e quindi questo profumo mi ha fatto proprio ritornare indietro tantissimi tantissimi anni fa quando quel profumo di rosa bella pura rossa carnosa accompagnava la mia camminata verso i quartieri dove si andava a recitare il rosario è un profumo secondo me dedicato alle mamme di qualsiasi età è un profumo magari dai toni un po vintage ma non vecchio non stantio non un profumo che ci ricorda qualcosa di sgradevole è un profumo bellissimo alla rosa e violetta perché io per esempio la nota di pera che c'è in testa non la sento non sento questa questa nota dolce lo sento veramente un profumo molto fiorito che dopo le prime due o tre ore a me dura sulla pelle circa cinque ore ma secondo me ne bastano veramente pochi spruzzi perché è molto molto intenso soprattutto nelle prime due o tre ore poi pian piano si trasforma si trasforma mantenendo sempre questa nota fiorita ma diventa anche leggermente muschiato quindi poi sulla pelle così ci rilascia quel sentore muschiato cipriato proprio molto bello di un profumo che non ha tempo e che non ha età e quindi questo lo trovo davvero perfetto per le mamme di tutto il mondo e di tutte le età ma come tutti gli altri profumi che vi racconterò bellissimo davvero bellissimo bellissimo fateci un pensierino se vi piacciono i profumi dove la nota anche se sono noti di testa la nota della rosa e la nota della violetta si sentono veramente per molto 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 tempo buonissimo profumo poi il più famoso il più chiacchierato e raccontato allora qui lo vedete nuovo ma io ne ho uno che ho finito perché questo profumo da quando è uscito che è uscito nel 1999 ed è stato creato dal famosissimo naso di francis courjan io una volta all'anno lo compro e tutti gli anni lo finisco perché questo per me è il profumo per eccellenza della primavera e dell'estate quando ultimamente è stato anche un po riscoperto sui canali youtube e infatti io ho visto due video di due amiche che una è elsa del canale like e candy shop ciao elsa non so se lei mi segue e l'altra è cristi del canale cristi 74 ho visto due loro video dove quasi imbarazzate raccontavano che non avevano mai snasato questo profumo e io sono rimasta così colpita perché per me questo è il profumo di sempre che uso da sempre in primavera ed estate questo non è quasi neanche il caso di raccontarlo perché penso che sia forse il profumo più indossato quasi al mondo potrei dire potrebbe essere una stupidata e niente questo questo è il profumo della primavera il tè gli agrumi la freschezza la briosità la leggerezza è davvero meraviglioso le sue note sono le note di testa limone bergamotto menta scorza di arancia e rabarbaro le note di cuore sono gelsomino muschio di quercia muschio finocchio garofano e ambra bianca troppe le note di base sono tè verde gelsomino muschio di quercia muschio semi di sedano carvi chiodi di garofano e ambra per me questo profumo è un agrumato non dolce fresco brillante arioso perfetto per qualsiasi situazione al lavoro in ufficio all'aperto dopo la palestra in una serata calda d'estate dove si fa un aperitivo per una pizza all'aperto per un pinnick per una passeggiata in riva al mare ma anche perché no per una passeggiata in riva al lago adesso questo me lo struzzo perché è meraviglioso è il mio profumo preferito della primavera e dell'estate e non vi dico che l'ho portato tantissimo anche in inverno quando si vuole quella sferzata di energia quel profumo che ti regala benessere che ti regala quella sicurezza che in qualsiasi momento tu lo indossi questo ti sta sempre bene tutti ti chiedono che profumo hai è vero va rispruzzato perché la sua durata non è molto duratura sua durata non è duratura va bene non taglierò niente perché sono troppo emozionata in questo video dura sulle due ore ma insomma con 100 ml per un prezzo di 8 al massimo 15 euro e vai che ci facciamo la doccia perché questo è un profumo che anche se te ne metti tantissimo non stanca non inebria è proprio quel profumo che ti regala quella piacevole sensazione di pulito di bellezza di freschezza e che ti fa stare sempre bene quindi ragazze e ragazzi se questo profumo ancora non l'avete provato io lo comprerei ad occhi chiusi ed è stato forse il profumo che io ho maggiormente regalato e consigliato l'ho regalato a tantissime amiche che mi a cui piacevano i profumi l'ho consigliato a tantissime amiche che mi chiedevano consigli anche per le loro figlie ancora ragazzine questo è un profumo che sta bene su tutti dalla la bambina di 10 anni alla signora di 99 cioè va bene per tutti è sempre bello ti regala veramente un senso di felicità il profumo della felicità green tea di elisabeth arden bellissimo bellissimo terzo profumo questo profumo l'ho immaginato bellissimo scusate le ditate ma con questo flacone insomma è un po così specchia anche ed è di mont blanc e si chiama presence d'un femme francese non lo so allora presence d'un femme è un profumo elegante e raffinato bellissimo le note di testa sono pepe e andarino le note di cuore sono orchidea e ciclamino le note di base sono legno di rosa brasiliana sandalo mogano paciuli e fiore di vaniglia un profumo dove la parte iniziale così agrumata e frizzantina io non la sento tantissimo è un profumo per me legnoso talcato fiorito che regala un sentore cipriato meraviglioso un profumo elegantissimo ma di un'eleganza appena sussurrata moderata un profumo che rimane tutto il giorno soprattutto sui vestiti ma diventa pian piano molto molto intimo un profumo che non urla un profumo che però sta con voi e vi dà quella sensazione di raffinatezza ed eleganza che alcune volte ricerchiamo alla fine diciamo esce un po' quella base legnosa e speziata che è davvero molto molto piacevole ma di per sé è proprio secondo me un cipriato talcato meraviglioso che immagine di mamma e di donna mi ha fatto venire in mente ogni volta che lo rispruzzo penso di essere così anche se è veramente totalmente diverso da come io sono qui mi immagino una mamma una donna vestita in maniera elegante magari con un tailleur dai toni molto neutri un bianco un panna un beige uno stile molto elegante raffinato ma misurato un filo di perle al collo mentre nel suo salone arredato minimal e ovviamente con dei toni bianchi o comunque molto molto delicati queste tende svolazzanti con una brezza leggera che entra sistema un mazzo di tulipani sul suo tavolo della sala ecco questa è l'immagine di questa donna quindi se la vostra mamma la vedete così anche se magari non lo è sapete che le possa piacere un profumo cipriato floreale legnoso ma non invadente molto delicato molto sottile questo è il profumo adatto a lei questo profumo lo trovate dai 19 ai 25 euro sono 75 ml di prodotto ma secondo me è un profumo che va riscoperto è davvero un profumo meraviglioso per una mamma elegante sappiamo che ci sono varie tipologie di mamme e io mi ritrovo più in questa tipologia per questo profumo allora arriviamo alla mamma caldo abbraccio rassicurante quella che nonostante la giornata faticosa per il lavoro per i vari problemi normali della vita quotidiana alla sera riesce a trovare il tempo di farvi felici e contenti soprattutto se torna qualcuno a casa dopo una giornata faticosa e ha il tempo di prepararvi una torta non una torta decorata non una santo onore una torta semplicissima una torta margherita con un ripieno di crema pasticcera di che profumo sto parlando sto parlando di dg 21 b che è ispirato a devotion di dolce e gabbana io non ho mai sentito devotion di dolce gabbana ma mi basta questo profumo perché questo profumo è meraviglioso lui è del brand essenze online essenze online è sia un negozio fisico che un negozio online il suo proprietario è matteo ceramigli io sono nel suo gruppo di facebook perché mi piace sempre scoprire profumi nuovi e conoscere anche magari il naso di chi li crea e lui è veramente bravissimo il prezzo varia da 19 90 per il 50 ml a 29 90 per il 100 ml e io ovviamente ho comprato qui il 100 ml perché perché così note di testa limone candito note di cuore panna cotta rum fiore d'arancio note di fondo vaniglia allora questo è un profumo che sa di casa che sa di amore che sa di caldo abbraccio di una torta appena sfornata di vaniglia di limone candito di crema pasticcera un dolce avvolgente cremoso goloso è il profumo della bontà e in ogni mamma è nascosta la bontà lo sapete tutti sia chi è una mamma appena diventata mamma chi da come me da 26 anni è mamma e come la mia mamma anche se la mia mamma non si profuma cioè le mamme hanno sempre quel tocco speciale quella parola giusta che a volte vi fa arrabbiare vi fa riflettere ma poi capite che quella parola quel gesto è stato fatto soltanto per amore questo profumo secondo me è il profumo dell'amore di una mamma un caldo abbraccio è meraviglioso questo lo spruzziamo su un'altra muglietta ed è spettacolare mamma mia il profumo dell'amore e di un abbraccio caldo e rassicurante come quello che solo una mamma sa fare per i suoi figli è meraviglioso limone candito crema pasticcera vaniglia e un leggero tocco di liquore stupendo 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 veniamo ora all'ultimo profumo e anche qui io mi ci sono vista perché io sono una mamma sfaccettata a volte posso essere elegante molto raramente a volte posso essere dolce magari qualche volta di più a volte so essere sbarazzina tante volte sono sciocca anche non ci sono le mamme perfette ci sono le mamme che amano le mamme non sono mai perfette tutti impariamo a fare qualcosa e si impara anche a fare la mamma e non si smette mai di imparare perché poi quando si diventa mamme di figli adulti ci si accorge che si impara anche dai figli è sempre un crescere insieme un passo alla volta poi magari i nostri figli vanno sfuggono come è giusto che sia noi siamo indietro ma quanto è bello quando loro si girano e con lo sguardo ci cercano è davvero penso la più bella soddisfazione sapere che i nostri figli sono liberi di fare qualsiasi scelta che noi possiamo indicargli la via e la strada ma poi tocca a loro vivere la loro vita bellissima questa cosa mi sono un attimo persa nei miei pensieri da mamma ultimo profumo ma ce ne sarebbero altri 100.000 di profumi da consigliarvi per una mamma però così ho deciso di fare queste diversificazioni perché io poi in tutti questi profumi mi ritrovo questo profumo l'ho appena comprato l'ho indossato questa settimana perché è davvero un profumo carinissimo fresco ma non troppo è il profumo di mandarina duck vida loca for here l'avevo comprato se vi ricordate scontato ad acqua e sapone il mese scorso penso questo profumo lo trovate sia ad acqua e sapone che da tigota perché l'ho visto come anche lui ma li trovate anche online è un profumo per la mamma frizzante per la mamma che nonostante la sua età si sente ancora una ragazzina e che quindi quando magari fa i mestieri in casa con le cuffiette sulla testa balla e canta e poi i figli quando vi vedono ecco lasciamo perdere perché loro non si rendono conto che tu sei ancora giovane dentro che tu hai voglia ancora di cantare di ballare di farti una risata di quelle che ti allargano il cuore è un profumo perfetto per l'estate per la primavera in testa abbiamo mandarino limone e pear drys dopo vi dico che cos'è le note di cuore sono mimosa gelsomino e rosa le note di base sono vaniglia leno di cedro e ambra grigia è un profumo brioso dall'apertura molto fresca ma anche un po licorosa la nota sintetica che è questa pear dyes dovrebbe essere dovrebbe ricordare una pera affogata nel cognac un profumo fruttato dolce perché qui c'è una pera molto molto zuccherina che poi pian piano si trasforma e va a crearsi un sentiero di note fiorite il gelsomino lo sentite abbastanza preponderante ma in tutto questo cammino non perde mai la sua freschezza iniziale ed è per questo che lo trovo un profumo secondo me adatto anche alle calde giornate d'estate prendiamo un'altra e ci spruzziamo questa meraviglia si si sente secondo me davvero questa nota un po licorosa ma accompagnata dalla freschezza del mandarino e del limone molto molto bello un profumo estivo fruttato che ci regala una piacevole carezza fiorita e dolce come solo la carezza della mamma può fare una carezza a volte ci cambia la giornata dobbiamo ricordarci di farli più spesso io non le faccio più ai miei figli ma se le faccio devo proprio rapirli per poterlo fare perché non vogliono farsi abbracciare carezzare la lucia sì ma gli altri due maschi insomma ma io so che gli fa tremendamente piacere lo stesso questa cosa anche se loro non vogliono bene spero ho finito tutti i profumi spero di non avervi annoiato di avervi così dato qualche idea se magari non avete ancora pensato a cosa regalare alle vostre mamme le mamme vanno sempre festeggiate a qualsiasi età ed è veramente piacevole ricevere un piccolo pensiero figli se mi state ascoltando o figlie se mi state ascoltando insomma è bellissimo il regalo che in questi ultimi anni i miei figli mi hanno fatto io ogni tanto ricordo guardate che settimana prossima è la festa della mamma e il giorno della festa della mamma si presentano tutti e tre davanti a me e dicono ecco il tuo regalo siamo noi e io dico sì vabbè ma per già 26 anni che mi fate questo regalo ed è una cosa bellissima e loro dicono sì ma mamma noi cambiamo tutti gli anni quindi siamo sempre un regalo diverso ma se magari mi ascoltassero così un piccolo pensiero un piccolo regalo un profumo del tempo dedicato penso che a tutte le nostre mamme farebbe piacere per gli auguri ci risentiamo sicuramente la settimana prossima io adesso vado perché ho le ultime cose da preparare poi sarò in parrocchia oggi e domani ma così avevo veramente piacere di condividere con voi questi profumi che mi hanno fatto pensare alle tante mamme diverse di tutto il mondo attenzione mamma non è soltanto chi partorisce mamma è chi ama ci sono mamme che non partoriscono ma sono mamme ci sono mamme che adottano e sono mamme ci sono mamme che amano i figli degli altri e sono mamme insomma l'amore di una mamma non è nel gesto di mettere al mondo un bambino ci sono mamme che purtroppo abbandonano per problemi i loro figli ci sono mamme che comunque penso nel loro cuore i loro figli se li portano dovunque essi siano e quindi mi raccomando per tutte le vostre mamme fate un piccolo pensiero io vi abbraccio vi ringrazio perché siete arrivati fino a qui con tutte le mie così i miei deragliamenti sui vari sentieri sono contenta di aver condiviso con voi veramente in come dire online al momento che ho ricevuto il mio regalo dai dai miei bambini perché è stata ed è una cosa che mi ha riempito il cuore vi racconterò come è andata la comunione settimana prossima un abbraccio buona domenica e a presto ciao